Sono stati sottoposti oggi a processo i 17 tifosi croati accusati dei disordini durante e dopo la partita Italia-Croazia disputata domenica scorsa allo stadio San Siro di Milano, valida per le qualificazioni al campionato europeo-francese del 2016. Fumogeni e Bengala avevano colpito il manto del terreno milanese intorno al venticinquesimo minuto del secondo tempo. Poi i scontri si sono spostati all'esterno dello stadio con il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine. Intanto si attendono i provvedimenti della UEFA in merito ai vergognosi fatti avvenuti a San Siro. Potrebbe esserci l'ipotesi di due turni senza pubblico per la Croazia ed una forte multa per gli azzurri. Grazie.